Positano è con la processione in spiaggia, con i turisti curiositi, mentre cominciano ad arrivare le prime barche e i storanti già sono cominciati a mangiare. Positano. La gente sta in spiaggia, ecco sono zero a delle imbarcazioni e gli saloni. La gente sta in spiaggia. La gente sta in spiaggia, ecco sono zero a delle imbarcazioni. La gente sta in spiaggia, ecco sono zero a delle imbarcazioni. La gente sta in spiaggia, ecco sono zero a delle imbarcazioni. La gente sta in spiaggia. La gente sta in spiaggia.